E' morto Michele Liguori, il vigile di Aversa, in prima linea contro lo sversamento dei rifiuti. Il presidente napolitano ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia per i funerali che si terranno lunedì. Il servizio è di Matteo Parlato. E' morto a 59 anni, ucciso da Evelini che ha combattuto dal 2002, quando entrò nel nucleo della Polizia Ambientale di Acerra, un nucleo composto da un solo agente, lui. Diossina e PCB, policloro bifenile, gli hanno regalato due tumori allo stomaco che l'hanno ammazzato. Non si è fatto comprare dai camorristi che l'avevano soprannominato, con scherno, il vigile grasso con la barba. Un pentito ha detto di lui, non ha mai offerto coperture. Michele Liguori non si è mai dato per vinto, ha sempre rinunciato, scattato foto, fatto rapporti, ordinato sequestri. Nessuno ha riconosciuto il suo impegno, anzi, alla fine si è beccato un trasferimento per eccesso di zelo. Oggi la terra dei fuochi è ancora lì, senza bonifiche e senza una mappatura delle zone contaminate. E oltre alla terra ci sono i palazzi con l'amianto impastato nel cemento. Un'urbanistica tossica tutta da scoprire. Un fiume di rifiuti è stato seminato nella terra dove era nato. E lui non ha mai voltato lo sguardo, ma era solo e il suo lavoro non ha impedito che ad Acerra i tumori in 4 anni aumentassero dell'81,2% da 427 a 774 casi. Tra questi anche il suo. Nell'ultima intervista alla stampa, prima di morire, il vigile Zelante ha detto Se tornassi indietro, non so se lo rifarei.